In nome del Padre, del Filo e dello Spirito Santo, Amen. Gesù ti amo con la tua volontà. Vieni Divina Volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come in mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regine Immacolata, Celeste Madre Mia. Vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti con i sospiri più ardenti, che mi ammetta a vivere nel Regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso finché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi, perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel Regno del Volere Divino e stretto la tua mano materna guidare tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farai da mamma e poi a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la Divina Volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal Regno Suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi sentire sempre più e sempre meglio e capire sempre più e sempre meglio cosa significa volontà di Dio e come vivere in esse. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fruttus ventris tui Iesus, Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 30, 17 giugno 1932. Come chi vive nella Divina Volontà chiude ed opera ed intrecce i suoi atti con quelli della Vergine e quelli di Nostro Signore, come forma un connubio tra tutte le cose che alla Divina Volontà appartengono. Il mio abbandono nel volere divino continua. Sento la sua forza onnipotente, che tutta mi investe e la mia piccola anima come disfatta in modo che non voglio, non sento, non tocco che solo la Divina Volontà. E se qualche piccola nube investe la mia mente e la sua luce divina subito, quasi senza darmi tempo, mi inonda e me la mette in fuga. Ed io o mi getto nelle braccia della mia mamma celeste come a mio rifugio, oppure nelle braccia del mio dolcissimo Gesù per ritrovare la mia cara vita, e prego l'uno o l'altro che mi chiudano in mezzo agli atti loro per poter stare sicura e difesa da tutto e da tutti. Ma mentre ciò ed altro pensavo, il mio sommo bene Gesù, stringendomi fra le sue braccia, mi ha detto Figlia mia benedetta, i miei atti e quelli della mia regina mamma, il nostro amore, la nostra santità, stanno in atto di aspettativa continua di chiudere gli atti suoi in mezzo ai nostri, per dare loro la forma degli atti nostri e mettervi il suggello dei nostri sopra gli atti tuoi. Gli atti della sovrana del cielo sono intrecciati con gli atti miei, perciò sono inseparabili. E chi vive nel nostro volere divino viene ad operare in mezzo al nostro intreccio, e gli atti suoi vi restano chiusi in mezzo agli atti nostri, i quali tengono in custodie come trionfo ed opera del Fiat Divino. Nulla entra negli atti nostri se non sono parto di esso. Vedi dunque dove viene formata la santità di chi vive nella nostra volontà, in mezzo alla nostra santità. Tale anima ama nel mezzo del nostro amore ed opera in mezzo alle nostre opere, sicché chi opera nel nostro volere sentirà come in natura l'inseparabilità, essa dai nostri atti e noi dai suoi, come è inseparabile la luce dal calore e il calore dalla luce. E perciò queste anime sono il nostro trionfo continuo, la nostra gloria, la nostra vittoria sull'umana volontà. Sono le nostre proprietà divine che noi formiamo in essa e lei forma in noi. Il volere umano e il volere divino si baciano continuamente, si fondono insieme. E Dio svolge la sua vita nella creatura ed essa svolge la sua vita in Dio. Oltre a ciò, chi vive nella mia volontà, non c'è cosa che appartirà al mio fiat che la creatura non acquisti i suoi diritti. Diritto sul nostro essere divino, diritto sulla sua mamma celeste, sopra gli angeli, sopra i santi, diritto sopra il cielo, il sole, la creazione, tutta. E Dio, la Vergine e tutti acquistano il diritto sopra di lei. Succede come quando due giovani sposi si uniscono con vincolo indissolubile. Che d'ambo le parti acquistano il diritto sulle stesse loro persone, su tutto ciò che d'ambe due appartiene. E' diritto che nessuno può togliere a loro. Così per chi vive nel nostro volere, forma il nuovo, vero, reale sposalizio con l'ente supremo. E con questo viene formato un connubio con tutto ciò che a lui appartiene. Oh, com'è bello vedere questa creatura sposata con tutti. La cara, la beniamina, l'amata da tutti e con diritto tutti la vogliono. La sospirano di goderla e di tenerla insieme con loro. Ed essa ama tutti, dà il diritto a tutti sopra di lei e si dà a tutti. E la nuova e lunga parentela che ha acquistato del suo creatore, oh, se si potesse vedere sulla terra, vedrebbero che Dio la porta fra le sue braccia. La sovrana regina la alimenta col cibo prelibato del volere divino. Angeli e santi la corteggiano. No, il cielo si stende sopra per coprirla e proteggerla. E guai a chi la tocca. Il sole la fissa con la sua luce e la basa col suo calore. Il vento la carezza. Non vi è cosa da noi creata che non si presta a fare il suo ufficio intorno ad essa. La mia volontà muove tutto intorno a lei affinché tutti e tutto la servissero e la massero. Perciò chi vive in essa dà da fare a tutti e tutti sentono la felicità di poter stendere il loro campo di azione dentro e fuori della fortunata creatura. O se tutte le creature comprendessero che significa vivere nella mia divina volontà. O come tutti ambirebbero e farebbero a gara di fare in essa il loro celeste soggiorno. Onde mi sentivo più che mai tutta abbandonata. Nell'immensità della luce del volere divino. E vedevo e sentivo dentro il mio dolce Gesù tutto attenzione sulla piccolezza della povera anima mia. Si prendeva cura di tutto. Mi voleva dare tutto. Fare tutto in modo che si vedeva che col tocco delle sue dita mi formava il palpito. animava il respiro, il moto. Teneva in ordine i pensieri, le parole e tutto. Ma con tanto amore e tenerezza che mi raviva. E Gesù benedetto, nel vedermi meravigliata, mi ha detto mia piccola figlia, ma non ti meravigliare, non ti meravigliare. Delle tante mie attenzioni e tenerezze amorose che faccio dentro e fuori di te. Tu devi sapere che nell'anima dove regna la mia divina volontà, io servo me stesso. Quindi per decoro della mia divinità e santità presto gli atti miei come se fossero dati alla mia stessa vita. E perciò vi metto l'intensità del mio amore, l'ordine dei miei pensieri, la santità delle mie opere. E nel vedere la docilità della creatura che si presta come figlia a ricevere gli uffici del padre suo, le sue tenerezze amorose, la vita del padre nella figlia sua, oh, come mi sento felice ed onorato di servirla. Molto più che servo me stesso nella figlia mia. E per chi serve se stesso, non è servitù, ma è onore, gloria, è sapersi custodire nella dignità, nella santità, nell'ordine del suo stato, senza scendere nel basso. La servitù comincia quando si servono altre persone, ma servire se stesso è mantenere l'altezza del proprio stato. D'altronde dove regna la mia divina volontà, è mio interesse che tutto ciò che fa la creatura siano atti degni di essa e che siano a parto degli atti miei. Sarebbe disdicevole la volontà divina e gli atti umani. Perciò io mi esibisco a fare tutto per servire la mia stessa volontà. Oltre a ciò, mentre seguivo il mio abbandono nelle braccia di Gesù, egli ha soggiunto, figlia Benedetta, la mia umanità amò tanto l'umana famiglia che la portai e la porto tuttora nel mio cuore. Estretta fra le mie braccia ed ogni pena, opera, preghiera che facevo, erano nuovi vincoli di unione fra me e loro. Sicché tutto l'essere mio e tutto ciò che io facevo correva, correva come torrente impetuoso verso ciascuna creatura che sciogliendosi in amore si costituiva vincolo di unione, di amore, di santità, di difesa, che formando voci arcane di amore insinuante, spasimante, delirante, diceva a ciascuno di essi. Vi amo, figli miei, vi amo assai e voglio essere amato. La mia umanità riordinava e stabiliva la vera unione tra creatore e creatura, vincolava tutte le creature tra loro come membro unito col capo ed ero proprio io che mi facevo capo di tutta l'umana famiglia. Quindi la virtù tiene per sé stessa la forza vincolatrice di vincolarsi con Dio, non solo, ma di vincolarsi con le creature in modo che se uno esercita la pazienza, ebbene la sua pazienza si esercita, si vincola con tutti quelli che hanno la pazienza e dispone gli altri ad avere pazienza. E così chi è obbediente, umile, caritatevole forma le diverse categorie nella mia Chiesa. Che dirti poi dei vincoli estesissimi che forma chi fa vivere nella mia Divina Volontà? Siccome questa si trova è in cielo e in terra, dovunque mette i suoi vincoli, con i suoi atti vincoli c'era e terra, e chiama tutti a vivere di volontà divina. Bene, anche oggi il Signore ci porta nei cieli terzi del Divin Volere e tra l'altro ci dà anche qualche piccolo spunto di riflessione per il Natale, oggi comincia la novenna di Natale, almeno in due punti, quando parla della inestricabilità degli atti suoi da quelli della Divina Maria e poi quando parla lui stesso di quello che ha combinato attraverso l'opera dell'incarnazione. che è veramente tanta roba. Forse sarebbe proprio il caso di cominciare questa meditazione dato che è novena di Natale da questi punti. Allora, cominciamo proprio dalla fine. La mia umanità amo tanto l'umana famiglia che la portai e la porto tuttora nel mio cuore. È chiaro che questa operazione si è realizzata con l'incarnazione. È stretta fra le mie braccia. Questa è tutta l'umanità. Ogni pena, opera, preghiera che facevo quando ero sulla Terra, quindi attraverso l'incarnazione erano nuovi vincoli di amore tra me e loro. Sicché tutto l'essere mio e tutto ciò che io facevo correva, correva verso ciascuna creatura. Attenzione, eh! Si scioglieva in amore e costituiva vincoli di unione, di amore, di santità, di difesa e attenzione. Formando voci arcane di amore insinuante, spasimante, delirante dicevo a ciascuno di essi vi amo figli miei, vi amo e voglio essere amato. Primo pit stop necessario per la nostra preghiera personale. Chiediti come io mi chiedo ma tu l'hai mai sentita questa voce arcana di amore insinuante, spasimante, delirante che ti dice senti un po', ti amo ma proprio a te, amo proprio te, voglio te, voglio la tua anima, voglio la tua persona, voglio chi tu sei. non sei uno fra i tanti, non sei un numero, io penso a te, proprio a te, io amo di amore insinuante, te, proprio te, io amo di amore spasimante, te, proprio te, delirio, vado in delirio per te, proprio per te, e sai che cosa voglio? Voglio essere riamato, voglio che tu lo riconosci e lo accogli questo amore, te ne rendi conto e lo ricambi. Questo è il fatto che avviene già con l'incarnazione. Ora io mi raccomando, presumo che alle persone che ascoltano queste meditazioni non occorre fare questi tipi di raccomandazioni, durante la novena di Natale occorre non fare quello che fanno i mondani, quindi cominciare a catapultarsi tra shopping, spese, cenoni, panettoni, pandori, regali, amici cari, io credo che ci offenda molto il Signore andranno in questi giorni alienandosi, impazzendosi, senza prepararsi adeguatamente a Natale. La novena di Natale secondo me è qualcosa di simile alla Settimana Santa, io dico sempre che in questi giorni il mondo si dovrebbe completamente fermare se il mondo avesse un minimo di senno e non ce l'ha ovviamente, specialmente le disgraziate, sciagurate nazioni europee che sono tutte di antica tradizione cristiana che hanno ricevuto doni inestimabili dall'Altissimo, dovrebbero fare una cosa semplice, semplicissime, per una settimana, ecco, avete visto dato che vanno tanto di modi lockdown, no? no, non c'è lockdown, facciamolo switch off, dato che vanno in moda i bei termini inglesi, Perché tutti quanti gli piace parlare all'americano inglese, no? Quindi lockdown è... Facciamolo un altro, facciamolo switch off, io lo chiamo così, cioè significa che si stacca la spina. Sarebbe ideale anche astenersi dal lavoro, d'altronde nell'Antico Testamento se uno va a vedere in occasione delle grandi feste, dice, lo Yom Kippur, per esempio, allora attenzione che per sette giorni non farai alcun lavoro, diceva il Signore, quindi ti stacchi proprio la spina, stacca, stacca, perché in questi giorni il nostro sguardo deve essere svolto, deve essere rivolto a questo, se no la voce arcana dell'amore insinuante, spasimante e delirante te la sogni, perché cioè noi non possiamo sentire questa voce nel frastuono, nel trantram folle, nel corri-corri, per carità, non è che sto dicendo che non si devono fare le cene di Natale, è bello stare in famiglia a Natale, ma non occorre, cioè che ne so, andare a fare chissà che o chissà che cosa, o perdere la vita, cioè ho le giornate intere, si fa una cosa carina, si fa una cosa che certamente ci vorrà un pochino di tempo, no? io penso che, questa è la mia opinione personale, quindi come tutte le opinioni personali, mi raccomando, non desidia nessun altro valore che quello di un'opinione personale di un povero prete, no? quindi non voglio certamente alterare la maestà di questi iscritti con quello che penso io, no? Però, se mi posso prendere la licenza con questa specificazione di dirlo, meno ci facciamo trascinare, ecco, dal Natale pagano è meglio, perché sentire nel cuore che significa amore insinuante, spasinante e deridante di Gesù, val bene la pena di rinunciare a qualche sciocchezza accessoria e del tutto inutile con cui si condisce in modo mondano il Natale. Io conosco tante famiglie e persone che hanno testimonianze veramente straordinarie, bambini che non hanno neanche sentito parlare dentro a casa di chi è Babbo Natale, non hanno proprio mai sentito parlare e se qualcuno gliene parla i genitori dicono subito che sono tante cretinate, Babbo Natale non esiste, ecco, papà e mamma ti faranno qualche piccolo pensierino moderato per Natale, ma perché? Per farti ricordare che il dono grande che Dio ha fatto all'umanità è di suo figlio, noi accogliamo il grande dono che è Gesù Bambino e qualche piccolo pensierino simbolico, per carità, che non deve captare troppo l'attenzione a nemmeno delle creature, anche se va bene, se ci sia, per carità, ma viene fatto in questo modo, in questa forma e con questo fine, un piccolo dono per ricordarti il grande dono che il Signore ha fatto all'umanità, non c'entra niente di Babbo Natale, non avrebbe fatto tutte le stesse cretinate qui. Io personalmente sono assolutamente convinto che, dato che siamo in tempi difficili, tempi difficili sono tempi di testimonianza, non avere nessuna paura di sfidare il mondo, anche i parenti o chi la pensa diversamente quando si tratta di dover testimonare la nostra fedeltà al Signore Avangelo. Ripeto, considerazioni personali, torniamo alla meditazione, che forse è meglio. a un certo punto Gesù dice, sempre a proposito della relazione tra questo scritto e l'inizio della novenna di Natale, che i suoi atti sono come le liane, sono inestricabilmente fusi con quelli della Madonna. Più vincolati e più stretti, non so se qualcuno che sta facendo un documentario ha visto quelle liane delle foreste tropicali dell'Africa, che sono dei grovigli che sfido chiunque ad andare su qualche albero e a separarli, quindi a districare quei vincoli e quei legami magari andati avanti, formati nel corso degli anni, che è capace di risvincolarli, di risvincolarli, molto più gli atti di lei con gli atti di lui. E quindi Gesù dice, se tu cominci a operare nella divina volontà, tu vieni a operare nel nostro intreccio, ecco perché i santi nomi di Gesù e Maria, la devozione a Gesù e Maria, la consecazione totus tuus e quella della divina volontà, sono sempre due realtà inestricabilmente fuse. Ed ecco perché stare attenti sempre a chi minimizza la Madonna col pretesto di portare in alto il Signore che dice, no, non dobbiamo fare troppi madonnari, dicono così, dicono. E ho ripetuto questa espressione certamente con molto dolore, non dobbiamo fare così perché la Madonna è una creatura, ma noi dobbiamo stare attenti al nostro Signore Gesù Cristo che è l'unico mediatore, il nostro Dio, eccetera, eccetera. Per carità, argomentazioni che di per sé non farebbero una piega, non farebbero però una piega. Ma la Madonna non è una creatura come tutte le altre. Come dire San Luigi Maria è un forte. Qualunque creatura a cui noi ci attacchiamo, fossero pure i Santi, c'è il pericolo e quell'attaccamento come dire, in generi la possibilità di allontanarsi dal Creatore perché il nostro cuore in questo mondo è limitato, non si può attaccare troppe cose. Ma con la Madonna non funziona così. Se ti attacchi alla Madonna ti attacchi al nostro Signore Gesù Cristo. Ipsofatto, automaticamente. Perché lei non esiste se non in quanto fusa con il nostro Signore Gesù Cristo e con tutti quanti i suoi atti. Semplicemente facciamo così, non esiste la Madonna se non in quanto esiste così. quinti. E attenzione, il secondo step che Gesù dice, trattateci, st'attento, gli atti della Madonna sono inseparabili dai miei perché ha operato sempre e solo nella Divina Volontà. Se tu imparerai a operare sempre e solo nella Divina Volontà, gli atti tuoi saranno inseparabili dai miei. Lo dice Gesù, Chi opera nel nostro volere sentirà come in natura l'inseparabilità. Anche qui capiamo, sentirà, cioè si sentirà, lo avvertirà dentro il cuore come una come dire, sensazione profonda e avete visto di quelle certezze interiori che a volte ci vengono, no? E che magari si stupisce anche dire che ti interessava e dice ma io sto delirando, adesso sto mi si è mangiato il cervello il gatto. Invece non è così. E che a volte il nostro Signore ci dà queste grandi luci interiori, no? E' Lui. Ma ci rendiamo conto che significa giungere a un punto in cui si sente in natura l'inseparabilità essa dai nostri atti e noi dai suoi. Come è inseparabile la luce dal calore, ha detto Gesù. Ma questa è veramente una cosa pazzesca, no? Nel senso, il volere umano e il volere divino che si baciano continuamente. Spero che non ci sia nessuna volontà umana che non abbia tanto desiderio di baciare la volontà divina. Voglio proprio sperare, eh. Si fondono insieme i nostri piccoli atti di fusione che spero quotidianamente facciamo, estesi o sporadici che poi si compiono. Si realizzano. E Dio svolge la sua vita nella creatura e la sua vita in Dio. Attenzione, che poi che succede? la creatura acquista i suoi diritti la creatura sul nostro essere divino ma ci rendiamo conto a acquistare diritti sull'essere divino? Diritti sulla Madonna sugli angeli sui santi sul cielo sul sole sulla creazione evidentemente Dio la Vergine tutti acquistano diritti sopra di lei che cos'è? Cioè attenzione qui c'è anche un richiamo alla vita matrimoniale è una mistica è un mistico sposalizio anche se non viene celebrato nelle forme in cui le descrivono San Giovanni della Croce e Santa Teresa Davila perché esiste proprio il matrimonio mistico anche Luisa l'ha vissuto il matrimonio mistico in senso stretto ma sono comunque sposalizi ceresti ora qui rifacciano un po' di esame di coscienza anche marito e moglie perché quando una persona viene nel vincolo matrimoniale stia molto attenta come dice San Paolo il corpo della moglie appartiene al marito e il corpo del marito appartiene alla moglie tu non ti appartieni più tuo marito ha diritto su di te e sul tuo corpo proprio diritto e viceversa certamente questo è il grande mistero dell'unione matrimoniale quindi capiamo anche che significa di tu non puoi negare al coniuge l'esercizio dei suoi diritti né glieli puoi arbitrariamente togliere altrimenti passerai guai amarissimi con la divina giustizia perdonatemi se sono così severo amarissimi e qui le persone che sono sposate capiscano come dire non vorrei utilizzare come dire avere come dire l'ardire di mutuare un'espressione che usa sempre molto il nostro signore nel senso che chi può capire capisca non è tanto difficile capire e attenzione però chi vive nel divino volere dice Gesù che celebra questo reale sposalizio con l'ente supremo attenzione reale sposalizio lo chiama non mistico reale e che succede questa creatura è sposata con tutti perché è chiaro sposato con la dinna volontà è sposata con tutte le opere della dinna volontà e quindi che succede e questa è veramente tanta roba diventa la cara la beniamina l'amata da tutti un'anima che viene nella dinna volontà è amata è follemente amata e attenzione con diritto tutti la vogliono attenzione la sospirano di goderla come non pensare stasera c'è la catechesi su tenera amata no? altre creature qui sta parlando di creature sta parlando di angeli sta parlando di santi sta parlando di creature che la vogliono no vogliono quella creatura che vive unita con la dinna volontà e la vogliono la sospirano di goderla di godersela e di tenerla insieme con loro e questa creatura che fa? e questa creatura ci sta perdonatemi insomma ama tutti dà il diritto a tutti i sovradiressi dà a tutti e qui Gesù prorompe dice se potessero vedere dalla terra la condizione di questa felice creatura attenzione che la creatura comincia a vivere sulla terra e non in paradiso in paradiso vivono tutti così lo sappiamo la tenera amata ma sulla terra è un'altra cosa allora che cos'è quest'anima che vive fusa con la divina volontà intrecciata con gli atti di Gesù e di Maria Dio la porta fra le braccia ragazzi Dio la porta fra le sue braccia non si può vedere immaginiamo i suoi figli saranno portati in braccia sulle ginocchia saranno accarezzati questo è il profeta Esaiano ma qui proprio c'è proprio la realizzazione doc la sovrana regina la madonna l'alimenta col cibo del volere divino quindi la madonna si prende cura personale e diretta di un anima di questo genere per insegnarli a nutrirsi del volere divino e basta e poi angeli e santi la corteggiano gli fanno la corte capite che significa fare la corte no? gli fanno la corte perché dice vieni a essere un po' con me vieni a essere un po' devoto a me cioè Dio mi perdoni se sto osando troppo ma magari nei commenti alla meditazione oppure nella diretta insomma se capisco bene l'italiano o siccome il fatto che sto studiando un po' troppe lingue forse i transistor della lingua italiana mi sono saltati ma che significa angeli e santi la corteggiano ancora il cielo si stende sopra per coprirla e proteggerla e guai a chi la tocca guai a chi la tocca ah non ci capi di mai la disgrazia di azzardarsi a toccare un'anima che vive in questo modo perché si dice guai a chi la tocca vuol dire che chi la tocca passa i guai chi la tocca ovviamente in senso non buono dice il sole la fissa con la sua luce e la bacia col suo calore il vento la accarezza e non vi è cosa da noi creata che non si presti a fare il sufficiente intorno ad essa basta leggere per esempio per questo è successo la Madonna è successo e il Signore ha donato ci ha regalato tra i tanti regali che ci ha fatto se uno vuole vedere queste robe legga la mistica città di Dio di Maria da Greta che cosa succedeva quando la Madonna passava a volte la Madonna vedeva gli uccelli che gli andavano vicino gli alberi che si rallegravano della sua presenza gli angeli che la stavano servendo e lei li vedeva con gli occhi tu dici ma quella è la Madonna certo tutti quanti pensiamo che quella è la Madonna normale ma qui Gesù sta parlando che queste cose succedono ad un'anima che viene nella divina volontà non semplicemente alla Madonna e questa è una cosa veramente sconvolgente a mio punto stessimo avviso dice la mia volontà muove tutto intorno a lei attenzione affinché tutti e tutto la servano e l'amino ma ci rendiamo conto ragazzi cioè io veramente quando leggo queste robe è un problema di leggere con attenzione ma capite che so solo io che rimango che rimango senza parole di un'anziana roba di questo genere muove tutto intorno a lei cioè avete visto ma avete visto cioè ma è un grande peccato essere egocentrici no? quindi pensare che tutto quanto il mondo giri intorno a noi d'accordo? chi pensa una cosa di questo genere certamente deve andarsi a confessare no? perché l'ecocentrismo è una cosa ma qui c'è un centrismo voluto dal cielo la mia volontà muove tutto intorno all'Eff che tutto e tutto la servizio era la massero non solo attenzione chi vive in essa quindi ecco se noi vogliamo dare da fare al prossimo quindi che in generale te la fa trova qualche occupazione di chi non è la divina volontà ma io lo sto dicendo scherzando ma non c'è da poco da scherzare su queste robe qui e tutti sentono la felicità di poter stendere il loro campo d'azione dentro e fuori la fortunata creatura e ancora poi continua non ti meravigliare delle tante mie attenzioni che faccio dentro e fuori di te dice vabbè abbiamo già tutte quante le creature che stanno facendo a gara nel servillage ha già questa tanta roba ma non è finito perché l'ultima che dice il nostro signore è la peggio è il top dice io ti faccio tante attenzioni e tenerezze dentro e fuori sei ubriacato e che cosa dice più sotto sto citando cioè io la pagina mia è la pagina 88 di Cento nella versione digitale ma cioè chi c'è il testo la vado a rileggere mi sento felice ed onorato di servirla che cosa qui Gesù dice avete visto dice il servo che viene trovato pronto lui stesso si alzerà da tavola e passerà a servire lui i servitori fedeli ma questo è riferito a dopo nelle parabole evangeliche ma non ho qui la che è riferita da adesso il signore che non solo la serve ma si sente felice ed onorato io veramente ho paura di commentare queste cose perché non vorrei dire qualche sproloquio come dice Luisa certo poi Gesù aggiunge attenzione non andiamo a mortificare perché io servo me stesso nella figlia mia certo perché questa è una cosa che avviene solo in un'anima che vive fusa immersa nella divina volontà è chiaro che servendo la creatura dirai che il nostro signore si abbassa a servire una povera creatura lui che è Dio da Dio riuscito c'è Dio da Dio vero c'è la sua volontà quindi servendo lei io servo la mia volontà però di fatto siccome sono due realtà inestricabili il nostro signore sta servendo anche a quella a quella creatura ma dico ma ci rendiamo conto che roba che è questa roba e poi parla dice quindi io non servo in realtà a tema servo me stesso e la dignità che è che consiste nel nel non scendere in basso qui il tempo è finito sarebbe da parlare un'altra mezz'ora di non farsi servi in senso negativo di nessuno cioè noi siamo per amore del signore come dice San Paolo servi di tutti per carità quindi come diceva San Francesco i frati minori che hanno lo spirito ma attenzione altro è servire tutti con amore per amore di nostro signore altro è diventare servili nei confronti di qualcuno il servilismo che è una caricatura dell'obbedienza in questo senso noi non siamo servitori di nessuno se non di Dio solo e della nostra anima servire se stessi vuol dire per noi avere a cuore il bene e la santificazione della nostra anima che è l'unica forma di amore santo che possiamo avere verso noi stessi ma noi servili quindi il servilismo nei confronti di niente e di nessuno ma ripeto di niente e di nessuno includendo in niente e nessuno tutti senza eccezione alcuna perché noi non ci abbassiamo a servire un'altra creatura ma ripeto serviamo un'altra creatura per amore del signore obbediamo alle creature che sono a noi preposte per amore del signore entro i limiti dovuti ma il servilismo la cortigianeria la piaggeria mai e per nessun motivo perché questo è scendere in basso questo è perdere la dignità e questo non si deve fare per nessun motivo un grandissimo immenso grazie anche oggi signore Gesù le preghiere conclusive al termine della meditazione con il rischio di diventare sovente assai ripetitive perché c'è una come dire c'è uno stupore misto a gratitudine misto anche a un certo di senso di come dire di 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 distordimento soave soprannaturale perché almeno mi porto sempre dietro sempre spesso dietro ma dico che cose che si sentono insomma speriamo di poterle digerire di poterle capire bene anche di poterle interiorizzare bene te ne chiediamo sempre l'aiuto di farne uso buono sempre per il bene non per per la rovina però veramente tanta roba signore Gesù di tutto questo noi umilmente ti ringraziamo e la devina volontà